Eeeh bella ragazzi, qua Angia che vi parla e ben ritornati in questo nuovo video qua sul canale del GTF Clan e oggi siamo qua a proporvi questo nuovo incredibile gameplay. Si tratta di 69 Gunstreak in solo effettuato dal nostro GTF Tarn su dominio, combine ovviamente in solo con un WMP, è un gameplay diverso dal solito, non è niente di assurdo innanzitutto, però non è neanche niente di troppo banale dato che non è il solito gameplay in spawn trap, ma era più che altro per portarvi qualcosa di carino per intrattenervi. Comunque oggi non sono qui a portarvi argomenti particolarissimi, anzi ce n'è uno in particolare che mi sta molto a cuore, che penso sia una cosa che comunque faccia piacere sia a me che appunto ho avuto diciamo l'onore di commentare e tutti i nostri ragazzi appunto all'interno del clan, che è appunto il traguardo dei 37.000 iscritti ragazzi. Veramente io vi ringrazio con tutto il cuore, tutta l'anima, tutto quello che è possibile augurarvi di bene, ve lo auguro, perché ragazzi siamo arrivati a 37.000 persone, è qualcosa di veramente ma veramente assurdo, perché ormai la gente non ci fa troppo caso, perché comunque magari quelli un po' più grandi considerano l'iscritto diciamo solamente un numero alla fine, non considerano la persona che c'è dietro. E quando tu raggiungi un traguardo che non è comunque il classico delle 100.000, comunque traguardi che ormai sono diventati un must, diciamo una tappa fondamentale per continuare a crescere, non ci si fa caso quando si raggiunge comunque dei certi numeri che sono comunque molto alti, perché voi dovete considerare comunque non un diciamo un iscritto, quindi una cosa in più per poter diciamo portare avanti il vostro canale, ma una persona che comunque vi apprezza e segue quello che voi fate ragazzi. Perché comunque è come se io adesso stessi parlando davanti a 37.000 persone, è vero, lo sto facendo dietro uno schermo, ma comunque se voi ci pensate è qualcosa di veramente ma veramente assurdo. Io vi giuro sono straemozionato, ne parlavamo ieri io con tutti i vari ragazzi, c'era Rettet, c'era Sira, c'era Dino così, che ne discutevamo sul gruppo Whatsapp. E veramente è una cosa assurda, solo a pensarci ragazzi mi sta venendo ancora la pelle doc adesso. Comunque volevo anche informarvi che oggi streameremo verso le tre e mezza, io anche per questo diciamo argomento appunto delle streaming vi voglio ringraziare veramente di cuore perché siete veramente attivissimi, volete partecipare in tantissimi, siete sempre numerosi. Poi comunque ho visto molti commenti di apprezzamento e vi giuro ragazzi queste sono cose che appunto mi rendono orgoglioso perché capisco che comunque il mio anno e mezzo ormai, perché siamo arrivati lì di tra virgolette carriera su YouTube, non è stata solo uno spreco di tempo ma comunque può rappresentare grandi emozioni. Comunque penso che molti momenti belli sia all'interno della carriera videoludica che comunque della mia vita privata personale, molte soddisfazioni appunto della mia vita sono date anche da questo perché comunque faccio una cosa che a me rende orgoglioso, una cosa che a voi piace, una cosa che voi comunque continuate a supportarci e continuate comunque a darci forza per andare avanti anche quando comunque ci sono magari dei momenti un po' giù del canale oppure magari c'è qualche nostro ragazzo comunque che non si sente bene come era successo e voi subito a dargli manforte quindi veramente è proprio un gesto di umanità che è veramente qualcosa di assurdo ragazzi non smetterò mai di ringraziarvi per questo, per quanto possano sembrare banali, per quanto io possa sembrare poco emozionato anche se vi giuro ragazzi, io ieri sera quando ho visto appunto la foto di Gabriel, ovvero Retentive, che metteva appunto lo screen dei 37.000 io vi giuro, mi è quasi sceso una lacrima, è stata una grandissima soddisfazione perché comunque ricompensa tutti gli sforzi che quel ragazzo ha fatto per questo clan visto che è su Youtube da 5 anni e diciamo tutto l'impegno è detto molto volgarmente quanto si è fatto il culo per arrivare fino a questo obiettivo e veramente ragazzi sono soddisfazioni immense, voi non potete neanche immaginare quanto siamo contenti e d'altro dire, niente, io comunque voglio continuare a invitarvi a rimanere sintonizzati sul canale a continuare a supportarci, continuare comunque a lasciare like, a scrivervi, continuare comunque magari a parlare di questi stream con gli amici se lo fate già come magari era successo con qualche ragazzo che comunque ci diceva che faceva vedere un po' le streaming ai suoi amici e si divertivano anche loro, perché comunque è una cosa bella perché io sono sempre stato dell'opinione che Youtube non è solamente un dare per ricevere nel senso, tu non è che porti un contenuto solo perché vuoi ricevere il tuo like, la tua iscrizione e tutto ma io la vedo più come se fosse un po' un dialogo con delle altre persone perché alla fine è questo che dovrebbe fare Youtube dovrebbe creare un contatto, comunque un legame tra colui che appunto porta i contenuti e chi lo segue dovrebbe essere tutto un tutt'uno alla fine, non dovrebbero essere due cose totalmente distinte è vero, poi ci sta magari qualche momento in particolare dove bisogna un po' creare un distacco fra le due cose ma principalmente bisogna essere uniti perché anche quando per esempio siamo andati al Games Week io ho visto un sacco di gente che fermava per esempio Silver, che comunque col suo canale sta facendo veramente tantissimi progressi e lo fermavano per chiedere foto, per chiacchierare e infatti parlandone con lui si è visto comunque quanto ci teneva la soddisfazione che c'era dietro perché comunque tutto questo ricompensa tutti gli sforzi, tutti i sacrifici, tutto quello che abbiamo fatto finora per arrivare a questo obiettivo e veramente è qualcosa che dà un'emozione incredibile e veramente non so più cosa dire perché vi giuro sono veramente troppo contento penso sia uno dei traguardi più belli che io abbia mai raggiunto nella mia carriera videoludica speriamo di puntare sempre più in alto ragazzi perché comunque ogni traguardo è sempre l'inizio di qualcosa di ancora più grande quindi noi bisogna continuare a tenere i denti stretti, continuare a farci forza, continuare ad andare avanti senza mai mollare perché è questo che bisogna fare comunque niente, il video ormai sta per giungere al termine io veramente vi ringrazio ancora una volta di cuore per tutto il supporto che ci state dando vi invito a partecipare alla streaming delle tre e mezza che secondo me sarà qualcosa di assurdo insieme a Dino che comunque fa morire da ridere e niente, spero che il video veramente vi sia piaciuto spero abbiate capito il mio discorso e se così vi esorto a lasciare un bel mi piace a iscrivervi al canale se non avete ancora fatto e a passare da tutti i link che trovate in descrizione niente, quello è da Angelo e tutto grazie di cuore ragazzi e noi ci rivediamo a un prossimo video non ti piacciono i GTF non ti ammazzati non ti ammazzati non ti ammazzati quando arrivo devi farmi passare